Ciao a tutti, oggi voglio registrare per voi la recensione di un libro che ho letto in realtà ormai un mesetto fa solo che avevo registrato già questo video, accidentalmente l'ho cancellato e quindi non ho più avuto tempo durante le vacanze di riregistrarlo Il libro in questione è l'ultimo comandamento di Rudimentale, ringrazio moltissimo sia l'autore che la casa editrice perché mi hanno inviato il libro e tra l'altro sono stati gentilissimi perché mi hanno inviato in Inghilterra il libro non ce l'ho qua fisicamente ma vi metterò una foto magari da qualche parte perché appunto non sono riuscita a portarlo giù in Italia quando sono tornata a casa è un libro che mi ha molto appassionato soprattutto nella prima parte quindi per me diciamo che il libro è diviso come se fosse in due parti la prima parte inizia con praticamente un anziano signore in pensione che ritrova un corvo ferito che trasporta un manoscritto insomma lo scritto praticamente narra la storia di un archeologo del Cairo che poi in realtà è protagonista della storia questo archeologo del Cairo che è appunto un ragazzo laureato all'università del Cairo praticamente il cui sogno è quello di rimettersi sulle strade tutto quello che ha fatto su quello che praticamente Ramses II ha percorso verso il Sinai perché è convinto appunto che là nel Sinai ci fosse un tesoro un tesoro nascosto perché durante questo viaggio Ramses si era fermato praticamente durante mi sembrava una ritirata si era fermato in questa zona in un modo un po' strano non era una cosa prevista e quindi diciamo che da questo suo studio, queste sue ricerche lui era convinto che in questa zona ci fosse un tesoro quindi praticamente lui parte diciamo alla ricerca appunto di questo tesoro e si trova poi in realtà immischiato in qualcosa di molto più grosso di quello che pensava diciamo che è un po' un libro dalle tematiche fantareligiose nel senso che infatti per questo che io dicevo che per me il libro è diviso in due parti la prima parte è quella che mi ci rivede un po' perché sendo scienziata e ricercatrice insomma mi ha entusiasmato soprattutto la prima parte l'entusiasmo di questo ragazzo che andava appunto alla ricerca di questo tesoro della sua volontà di restare fedele alla ricerca scientifica insomma tutte queste cose qua mi hanno molto appassionata nel momento in cui invece si scopre la parte un pochino religiosa di questa storia diciamo che è un pochino io ho fatto un po' più difficoltà a leggere è comunque un libro molto scorrevole quindi si legge facilmente però appunto dal mio punto di vista essendo molto amante diciamo delle parti sostanzialmente scientifiche la parte religiosa l'ho trovata un pochino più cioè non complicata da leggere perché non è vero però un pochino più difficile tra virgolette quindi diciamo che in realtà questa ricerca che poi ha appunto carattere scientifico archeologico si rivela poi essere completamente qualcosa di diverso che potrebbe addirittura cambiare il mondo quindi in realtà è appassionante io mi sono trovata veramente molto bene nella lettura quindi è un libro molto scorrevole il finale mi ha lasciato un pochino così però appunto è una cosa soggettiva diciamo che appunto non vi racconto nient'altro era soltanto per farvi conoscere questo autore e questo libro che appunto mi sono piaciuti molto quindi vi lascio l'immagine di nuovo del libro e niente fatemi sapere se l'avete letto o nel caso vi interessasse perché appunto è un libro molto carino appunto deve piacere come tematiche come vi ripeto appunto perché oltre alla tematica fanta religiosa diciamo c'è anche quindi anche scientifica la prima parte c'è più una parte poi diciamo relativa alla guerra alla pace e quindi diciamo tocca anche tematiche abbastanza importanti e a volte anche difficili da trattare pur essendo per esempio in questo libro trattate abbastanza bene secondo me e niente spero che possessevi d'aiuto questo video per dare uno spunto anche di lettura e niente vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ringrazio ancora l'autore e la fredditrice no 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 Grazie per la visione!